ciao a tutti e bentornati su about biology questo come vedi anche dal titolo non è il primo video di chimica abbiamo già pubblicato ben 15 video già su questa playlist ti consiglio quindi se non l'hai fatto di darci un'occhiata trovi i link qua sotto in descrizione o la scheda della playlist qua in alto a destra in questo video parleremo del linguaggio della chimica ovvero le formule chimiche che servono per rappresentare la composizione di molecole e composti negli scorsi video di chimica che se non hai visto ti consiglio di recuperare abbiamo parlato di atomi e di elementi tra tutti gli elementi chimici però solo i gas nobili ovvero quelli del gruppo 8a della tavola periodica che sono elio neon argon krypton xenon e radon si presentano in natura come singoli atomi e per questo motivo sono detti gas monoatomici la maggior parte della materia è invece costituita da molecole o ioni e una molecola per definizione è costituita da almeno due atomi secondo una ben definita struttura che è tenuta assieme da delle forze chimiche dette legami covalenti inoltre una molecola può essere costituita da atomi dello stesso tipo o da atomi diversi ma comunque questi sono sempre presenti in proporzioni costanti come è stabilito dalla legge di proust che abbiamo visto in un altro video di cui trovi sempre il link qua sotto in descrizione o la playlist in alto a destra un composto invece a differenza di una molecola che può avere due atomi per esempio dello stesso tipo è costituito invece da almeno due atomi diversi ad esempio per essere precisi l'acqua è un composto dato che è costituita da idrogeno e ossigeno sempre in proporzione di 2 a 1 cioè per ogni molecola d'acqua abbiamo sempre due atomi di idrogeno e una di ossigeno quindi di base la differenza sta nel fatto che una molecola può essere costituita da due atomi dello stesso tipo ma anche da due atomi diversi mentre invece un composto è costituito da almeno due atomi diversi sappiamo però che la maggior parte degli atomi può perdere o acquistare elettroni e quando questo accade l'atomo si trasforma in uno ione un ione è per definizione un atomo o un gruppo di atomi dotato di una o più cariche elettriche che possono essere positive o negative quindi un ione non è mai elettricamente neutro e in particolare la cessione di un elettrone da un atomo neutro comporta la formazione di uno ione con una carica positiva che è chiamato catione per esempio un atomo di sodio che perde un elettrone formerà lo ione sodio na più un anione invece è uno ione che ha aumentato il numero di elettroni ed è quindi carico negativamente questo è il classico esempio del cloro che acquista un elettrone formando lo ione cloruro cl- bene ora per descrivere quindi la composizione delle molecole dei composti è stato necessario introdurre un linguaggio proprio della chimica che si basa su delle formule chimiche e con le formule chimiche non sono rappresentati soltanto gli elementi di un particolare composto ma anche in quale rapporto numerico questi si trovano e per scrivere le formule chimiche esistono alcune regole convenzionali in particolare ogni atomo viene rappresentato chiaramente con il simbolo dell'elemento a cui appartiene ovvero quelli che troviamo sulla tavola periodica i simboli degli elementi hanno poi in basso destra un pedice che indica quanti atomi o ioni di ciascun elemento sono presenti se un atomo poi è presente in una sola unità non viene scritto alcun pedice accanto al simbolo chiaramente facendo sempre l'esempio della molecola d'acqua in h2o abbiamo due atomi di idrogeno e uno di ossigeno ma noi non andiamo a scrivere h2o1 lasciamo semplicemente h2o inoltre un'altra cosa importante è che quando una sostanza è formata da degli ioni nella formula si indica soltanto la carica complessiva della particella infatti il cloruro di sodio na cl è una molecola neutra e noi non andiamo a indicare alcun segno di carica non andiamo per esempio a scrivere na più cl meno scriviamo semplicemente na cl il linguaggio delle formule chimiche sarà quindi molto preciso perché deve fornire delle indicazioni che siano chiare ma in poco spazio bene abbiamo capito quindi che ogni sostanza può essere quindi rappresentata nel modo più semplice attraverso una formula chimica che è formata dai simboli degli elementi costituenti che ne indicano la composizione qualitativa ovvero di quali elementi è composta la sostanza e quantitativa ovvero il rapporto di combinazione tra questi elementi e in particolare la formula bruta o empirica indica esclusivamente il tipo e il numero di atomi che compongono la molecola senza però mostrare come questi sono legati tra di loro questa formula viene scritta solitamente ponendo uno dopo l'altro e generalmente in ordine crescente di elettronegatività i simboli degli elementi che formano il composto e in particolare la formula bruta potrà essere espressa come una formula minima che indica il rapporto minimo di combinazione tra gli elementi nel composto oppure una formula molecolare che indica il rapporto effettivo di combinazione tra gli elementi nel composto e infine abbiamo una formula di struttura che indica la disposizione spaziale degli atomi nella molecola mostrando come gli atomi sono legati tra di loro e con quale tipo di legame prima di concludere vorrei fare un breve appunto sul carbonio nessun elemento infatti mostra tanti composti molecolari come fa il carbonio l'elenco delle sostanze contenenti carbonio è infatti impressionante e questo non soltanto per il numero ovvero più di 5 milioni contro i circa 30 mila di quelli formati da tutti gli altri elementi ma anche per la varietà dei composti che possiamo trovare e l'esistenza di così tanti composti dipende dalla capacità che hanno gli atomi di carbonio di unirsi unirsi formando delle catene anche lunghissime alle quali si uniscono atomi di elementi diversi i composti formati da delle catene di atomi di carbonio sono poi chiamati composti organici e riguardo questo riguardo il carbonio come forma legami e di tutte le particolari proprietà avremo sicuramente modo di approfondire quando inizieremo la playlist di chimica organica se vuoi vederla al più presto lascia un like a questo video per farmelo sapere oppure scrivimelo qua sotto in un commento e in ogni caso iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti ma come si determina la formula chimica di un composto per capirlo è necessario introdurre prima il concetto di massa atomica massa molecolare e di mole a cui ho voluto dedicare un video a parte per questo motivo ti consiglio di continuare a seguire about biology perché nel prossimo video parleremo proprio di questo per il momento è quindi tutto ti ringrazio per l'attenzione e a presto da about biology per l'attenzione e a presto Grazie.